Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna ci sono code a tratti tra Monte San Savino e Firenze Sud e tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di varico Baccheraia. In A11 sul raccordo Lucca-Viareggio, code per lavori tra l'allacciamento con l'A11 a Lucca e Massarosa in direzione Viareggio. Spostandoci in A12, rallentamenti tra l'allacciamento con l'A11 e l'allacciamento con l'A15 in direzione Genova. Sempre in direzione Genova, incidente tra Carrara e Sarzana al chilometro 108 e 800, code alla barriera di Rosignano in direzione Sud. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!